nelle ultime ore taglieri in realtà in tutta italia a livello cestistico si è parlato del taglio da parte di reggio emilia di richiledo in realtà non è stato un vero e proprio taglio nel senso che ufficialmente c'è stata una rescissione consensuale quindi da ambo le parti del contratto prima di tutto una premessa io ci posso credere che si dica richiledo ma proprio non ce la faccio cioè no non ce la faccio per me è richiledo detto questo se ne è parlato tanto perché richiledo è stato il giocatore simbolo della reggiana in queste prime otto giornate in queste prima parte di stagione ma è stato anche numeri alla mano e li vado a leggere per essere ancora più preciso il miglior realizzatore di tutto il campionato si parla di quasi 24 punti 23,5 di media partita 33 minuti di impiego 19,4 di valutazione quasi 5 rimbalzi più di 3 assist ma la cosa interessante è il dato dei tiri che si è preso richiledo in questo inizio di stagione sono più di 10 tiri da 2 di media a partita tentati dal campo e quasi 10 tiri da 3 per cui si parla di un giocatore che in queste prime otto giornate si è preso la media di circa 20 tiri dal campo sono ovviamente tanti è un numero che per chi per chi ha già visto qualche video di questo canale o magari mi segue su instagram già lo sa io avevo già analizzato più di un mese fa era era un video del 25 di ottobre se non erro in cui parlavo proprio di questo rischio che c'era di della reggiana in merito a richiledo perché quando c'è un giocatore che è così tanto accentratore cioè un giocatore che si prende così tante responsabilità offensive purtroppo nel nostro campionato tende a non aver fortuna il ripeto il video è del 25 di ottobre all'epoca si erano giocate solo tre giornate reggio emilia ne aveva vinte una quindi comunque un record migliore rispetto a quello che ha adesso richiledo era in quel momento sull'onda mediatica del grande realizzatore tant'è che tre giorni dopo il 28 di ottobre contro cantù mise 41 punti battendo non so quanti record a livello italiano ok quindi era un momento molto positivo per richiledo eppure io avanzai questo dubbio chi mi conosce sa che io non sono così tanto ferrato dal punto di vista dei pronostici per cui se mi era venuta in mente questa possibilità è perché purtroppo questa è una situazione ricorrente dalle nostre parti e negli ultimi giorni e qui veniamo al titolo di questo video ho trovato una serie di analogie con quello che è stato l'argomento forse più dibattuto in termini generali di cultura generale proprio chiamiamola così in italia che è l'argomento della flat earth che è un movimento che già da diversi anni ormai sta venendo fuori no l'idea questa teoria che la terra possa essere piatta anziché sferica insomma tutto quello che sappiamo è un'idea che c'è appunto da diversi anni ma che nelle ultime negli ultimi giorni è saltata alle riba alla ribalta della cronaca anche in seguito a un servizio delle iene se non avete visto se non l'avete visto andatevelo a recuperare perché può essere quanto meno interessante sicuramente bizzarro quanto meno interessante a prescindere dall'idea che ho io che mi son fatto io di questa teoria del complotto dei terrapiattisti che ovviamente la mia idea per quel niente che conta è comune a quella della stragrande maggioranza delle persone ha a che fare con quello che uno ha studiato a scuola e quello di cui è fatta diciamo la nostra esperienza quotidiana ormai da da generazioni però ripeto la mia la mia opinione non conta niente in questo contesto soprattutto perché l'analogia che trovo con la situazione di reggio emilia ma non solo e lo vedremo tra poco ha a che fare non tanto con la teoria dei terrapiattisti ok la teoria della terra piatta quanto sul movente mi spiego nel momento in cui vai a mettere in discussione quelli che sono ormai dei dogmi assodati cioè se se lo chiedi a un bambino delle elementari delle medie non so quando è che si cominciano a studiare queste cose non me lo ricordo però insomma anche un bambino ti dice che la terra è sferica ok che non è piatta se vai a mettere in discussione questi assiomi questi dogmi ti metti in gioco tutte le certezze che puoi aver avuto fino a quel momento nella vita sei pronto a rivoluzionare completamente il tuo sapere tutto quello che ti ha condizionato fino a questo momento questo movente è quello che mi interessa cioè non mi interessa intanto la teoria della terra piatta mi interessa questa predisposizione a rimettersi totalmente in gioco da zero a ricominciare da capo con quelle che sono tutte le tue convinzioni perché mi interessa questo perché ovviamente qui c'è un paragone che io non vorrei fare non voglio fare tra la reggio emilia di ora e le due squadre che vado a nominare adesso però è un paragone che dopo il taglio di richiledo secondo me sta venendo fuori il paragone che faccio è con due squadre recenti la prima è la juve caserta del 2014 2015 se andiamo a prendere i numeri ancora una volta di quella squadra di quella stagione in particolare di un giocatore di quella stagione il giocatore è sam yang vediamo come sam yang al momento del taglio in quel caso fu un vero e proprio taglio da parte di caserta viaggiava con anche lui quasi 33 minuti di media 22 punti quasi di media la bellezza di 11 e passa tiri da due punti di media tentati a partita quasi 5 tiri da 3 e 20 22 di valutazione sono cifre molto simili a quelle attuali di richiledo anche in quel caso sam yang fu preso come capro espiatorio fu tagliato la la stagione della juve caserta ebbe questo grande scossone perché anche lì sam yang era arrivato con gli onori della cronaca era stato il grande colpo di mercato come lo era stato richiledo in estate per questa reggio emilia saltarono ben due allenatori saltò molin saltò marcoschi e si concluse la stagione con vincenzo esposito si rimise in discussione tutto quello che era stato progettato in estate tutta la base della squadra si andò a pescare sull'usato sicuro arrivarono dejan ivanov henry domerkant giocatori che comunque in italia avevano già tanta esperienza furono tagliati i rucchi del nostro campionato per quanto non fossero rucchi a livello professionista fu tagliato awel fu tagliato appunto sam yang ma non solo il risultato fu la retrocessione caserta poi fu ripescata vabbè quello è un altro discorso però in quel caso il mettere totalmente in discussione il progetto dell'annata di caserta non portò bene alla juve caserta un altro esempio ancora più recente capo d'orlando stagione scorsa 2017 2018 parte con un progetto interessante perché comunque era una delle poche squadre che non puntava su l'usato sicuro appunto gli stranieri già visti in italia già rodati con esperienza il nostro campionato ma porta puntava molto su tanti giovani soprattutto dell'est europeo molto promettenti stojanovic kulboka e ring tantissimi altri insomma le cose lì non cominciarono subito ad andare male ma piano piano si misero male nel senso che poi la dirigenza prese la decisione ad esempio di monetizzare cedendo justin edwards che era il miglior realizzatore fino a quel momento della squadra anche in quel caso carenza di risultati si cominciò a puntare sull'usato sicuro arrivarono eric maynor justin knox arrivò adam smith giocatori gli ultimi due con grande esperienza della serie a 2 eric maynor con grande esperienza della serie a soprattutto con varese anche in quel caso alla fine della fiera rivoluzionare completamente il progetto estivo non portò bene a capo d'orlando che la scorsa stagione è retrocessa ora le analogie sono tante sono tante sia per quanto riguarda appunto il discorso dei terrapiattisti cioè rimettiamo completamente in discussione tutto tutta la squadra tutto il progetto che abbiamo di squadra e che abbiamo costruito nel tempo durante tutto il mercato estivo sono tante anche per quanto riguarda quelle che sono le evoluzioni della situazione perché tanto caserta quanto capo d'orlando quanto reggio emilia stanno sono andati e stanno andando a pescare per l'appunto sull'usato sicuro per il sostituto di ricky ledo si parla di tyrus mcgee si parla di michael jenkins già sono arrivati dei dei giocatori uno su tutti ben orner che rappresentano un usato sicuro per cui ovviamente i termini di paragone le analogie sono tante io non dico che la stagione di reggio emilia sia compromessa e che la separazione con ricky ledo sia diciamo la ciliegina sulla torta che condanna definitivamente la reggiana alla retrocessione anzi però secondo me dopo comunque poche giornate di campionato perché non siamo ancora neanche alla decima quindi non siamo ancora neanche a un terzo della stagione rimettere completamente in discussione tutto il progetto estivo che è stato un progetto che per quanto possa avere avuto tutti i limiti del caso ma è stato fatto in elaborato in diversi mesi tre ma anche quattro o cinque perché poi si comincia a programmare la stagione già da prima che finisca quella precedente è stato fatto con il 100 per cento del proprio budget a disposizione ed è stato fatto andando a pescare su un mercato di giocatori che era molto più ampio rimetterlo completamente in gioco ora che siamo a dicembre la stessa cosa a gennaio o a febbraio significa fondamentalmente operare con una buona fetta di budget già speso operare in brevi tempi ora magari si sfrutta la pausa della nazionale ma alla fine i tempi sono comunque stretti sono quelli che sono e operare soprattutto all'interno di un mercato di giocatori che è estremamente ridotto perché la stragrande maggioranza dei giocatori si sono già casati hanno già la loro posizione in altre squadre per cui secondo me è un principio quello di arrivare a un certo punto della stagione e cominciare la rivoluzione cominciare a mettere in discussione anche i pilastri fondamentali con cui si è costruita una squadra che è sbagliato bisogna dare tempo bisogna cercare di far lavorare il gruppo bisogna cercare di tirare fuori il meglio che si può dai giocatori che si è scelto sono entrate di mezzo anche delle problematiche a livello comportamentale richi ledo è stato anche multato qualche giorno fa per degli atteggiamenti un po' diciamo fuori da quelle che sono le linee guida dettate dalla società però ancora una volta secondo me si cerca questo divorzio un po' troppo presto nel senso che i matrimoni di una volta erano quelli tanto per ricadere sul banale in cui si cercava di appianare le divergenze si cercava comunque di andare avanti e di migliorare come coppia ora invece si arriva subito al divorzio ripeto sono tutte banalità però gli esempi e i corsi e ricorsi storici ci portano a avere almeno mi portano ad avere l'idea che questo complotto terrapiattista questa voglia irrefrenabili di mettere sempre tutto in discussione fino alla fine possa essere un problema io faccio i miei migliori auguri alla reggiana perché comunque sia è la più grande industria di talenti italiani degli ultimi dieci anni sono passati dal reggio emilia i migliori giocatori e migliori prospetti italiani ripeto sincerini della valle cervi adesso mussini e leo candy però secondo me si è avuto un po' troppa fretta grazie 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 grazie